Buonasera, buonasera a Peppe Carriero, complimenti per la vittoria. La priorità, lo dicevamo con il mister Gautieri, dopo soli due giorni di lavoro erano i tre punti, sono arrivati i tre punti anche in maniera abbastanza convincente. Sì, sì, ovviamente il mister è appena arrivato, è difficile vedere un'impronta delle sue idee. Lui ci ha dato, ripeto, delle buone idee da seguire, ci dovremo lavorare in settimana. Adesso questa era la sesta partita in 13 giorni, quindi c'è stata anche un po' di stanchezza durante la partita, soprattutto al secondo tempo, siamo stati bravi a sbloccarla subito al primo tempo e all'inizio del secondo tempo. Nonostante il primo tempo comunque abbiamo giocato un buon calcio, magari siamo stati poco incisivi nel momento giusto, però abbiamo creato tanto, abbiamo concesso qualcosina che poi rivedremo con il mister sicuramente, ma niente di particolare, non siamo mai andati in sofferenza, quindi sicuramente è una buona gara, siamo soddisfatti sicuramente. Oggi tra i migliori in campo, probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali per ti, almeno quello che pensavamo noi in postazione, ti dico, è il 3-5-2 che ti esalta le due caratteristiche o magari il mister Gautieri ti ha caricato in maniera particolare, ti ha detto qualcosa? No, a differenza magari delle partite iniziali di questa stagione, quando giochi a due, io a due ci ho giocato poco, mi sono ambientato piano piano e magari ho avuto un po' più di difficoltà, però penso che negli ultimi usciti anche con il mister Braglia stavo crescendo, stavo migliorando le prestazioni, dal gol con Monterosi, comunque lo stesso Francavilla, però comunque quando gioco a tre mi sento proprio bene in campo, mi esalto, so dove andare a prendere la palla, so dove posso far male alla difesa, riesco anche a recuperare più palloni, quindi sicuramente quando gioco a tre sono anche più tranquillo, poi a due ovviamente, se c'è bisogno io ci sono sempre, adesso sto iniziando a capire bene i movimenti che devo fare, quindi se all'occorrenza ci sarà bisogno non c'è problema. Te lo chiedo perché sei uno dei senatori, uno dei leader di questo gruppo, semplicemente come avete vissuto le ore tra l'esonero e l'arrivo di un nuovo allenatore? Beh, non fa mai piacere quando succedono queste cose, al di là del mister, anche perché abbiamo condiviso delle parentesi molto felici dall'anno scorso, comunque anche quest'anno nonostante tutto siamo sempre lì attaccati alla vetta della classifica, quindi non fa mai piacere, rispettiamo in maniera molto tranquilla la scelta della società e noi continueremo a lavorare perché è quello che dobbiamo fare per rispetto dei tifosi che voglio ringraziare oggi, nonostante tutto è un ambiente molto caldo, sentiamo che ci stanno vicino e capiamo, come posso dire, la delusione di magari qualche volta non aver recuperato dei punti, però io penso che in questo momento non dobbiamo più guardare nessuno, dobbiamo lavorare su noi stessi perché non è un campionato come l'anno scorso dove c'era la Ternana che distruggeva il campionato, un campionato dove quelli davanti a noi possono vincere o perdere contro tutti e viceversa, quindi dobbiamo pensare a noi stessi, non star lì a pensare se facevamo un punto in più o tre in più, dobbiamo lavorare, il campionato è lungo, mancano ancora 11 giornate se non sbaglio, se non di più, quindi siamo tranquilli, adesso ci concentreremo già per il prossimo match, che ha due giornate di distanza e poi dopo vedremo più in là. Perfetto, grazie, grazie mille a Peppe Carrillo.